Benvenuti, mi chiamo Cesare Sodi e sono il responsabile del sito aerospazio.info e dell'Aerospace Database in esso contenuto. In questo filmato vi presenterò molto brevemente alcune potenzialità del database. Partiamo dalla home page del database per proporre tre esempi delle potenzialità dello stesso. Quindi sarà un grafico, una tabella e una mappa. Andiamo quindi a vedere le potenzialità del grafico Satellites Country. Ecco appare un grafo a torta che identifica tutti i satelliti operativi, le unità di tutti i satelliti operativi per i vari paesi identificati dalle loro agenzie. Ciò significa che, per esempio, se noi andiamo a considerare la Germania, noi abbiamo 19 satelliti operativi di cui sono responsabili agenzie governative tedesche, agenzie tedesche in generale. Quindi può essere difesa, agenzie civili o privati. Questo grafico può ulteriormente essere specializzato, vediamolo adesso tutto, può essere specializzato per tipologia di orbita. Qui abbiamo tutte le orbite, vogliamo verificare soltanto i satelliti in orbita MEO e quindi andremo a specializzare la torta. Come vedete, i paesi le cui agenzie hanno lanciato satelliti in orbita MEO sono pochi. Immaginiamo adesso di verificare la stessa informazione per quanto riguarda i contraenti. Andiamo a vedere, per esempio, sull'orbita GEO. Ed ecco, vedete anche qui uno spaccato della situazione. Se non gradiamo il diagramma a torta, possiamo avere anche un diagramma a ciambella o anche un diagramma a barre. Un'ulteriore potenzialità di questi grafici è la possibilità di andare in vista introspettiva rispetto a ciascun paese. Abbiamo qua, per esempio, la Cina con 11 satelliti operativi realizzati da contraenti cinesi, quindi in orbita geostazionale. Clicchiamo sulla barra Cina e appare una tabella, un'altra finestra, una tabella che contiene tutti quanti i satelliti cinesi in orbita geostazionaria. Possiamo ulteriormente andare a verificare per ciascun satellite alcune caratteristiche. Clicchiamo, per esempio, sul Beidou 2. Ecco, si è aperta un'altra finestra, sempre all'interno del sito erospazio.info, che ci fornisce un certo numero di link. Che ne andiamo a verificare alcuni. Questo link è collegato direttamente ad un sito delle Nazioni Unite e contiene, come vedete, questo satellite con delle informazioni. Non è stato registrato presso le Nazioni Unite. Possiamo verificare anche altre informazioni, sempre su siti esterni. Questo sito identifica, ad esempio, la posizione del satellite in questo momento. Sempre partendo dalla home page del database, accediamo adesso ad un'altra pagina, SpacePorts. Quella che vedete è una classica G-Map, con qualche piccolo dettaglio. Vedete questi piccoli razzetti, questi lanciatori. sono le posizioni, identificano le posizioni dove sono collocate le basi di lancio. Come vedete, non sono molti. Facciamo riferimento a tutte le basi che possono vantare satelliti in orbita in questo momento. Quindi ci sono basi che non sono più operative e non sono incluse in questa mappa. Molto brevemente, l'utilizzo di questa mappa è per acquisire informazioni velocemente sulle varie basi. Possiamo andare a una base, ecco qui negli Stati Uniti, il Kennedy Space Center. Come potete vedere, nel riquadro che si è aperto, vi sono dei link sia alla base che all'agenzia che ne è responsabile. Quindi, vogliamo avere più informazioni sul Kennedy Space Center, clicchiamo sul link relativo allo SpacePort stesso. Ed ecco la home page dello Space Center. Perché, trattandosi di una mappa GMAP, è possibile, ovviamente, fare tutte le operazioni che si possono fare con questa mappa. Sempre partendo da home page del database, consideriamo adesso, come esempio, una tabella. Satellites. La pagina che si è aperta in realtà contiene quattro tabelle. La prima che vedete fa riferimento agli utenti e agli scopi dei vari satelliti. Quindi vedete user civile, in questo caso comunicazione. Qui sono elencati i vari satelliti. Andiamo a vedere, per esempio, gli orbital parameters. Possiamo restringere la nostra ricerca a satelliti del tipo Eutelsat. Vedete, già appare il suggerimento. Noi siamo in realtà interessati a tutti gli Eutelsat. E quindi procediamo. Il database ha ritrovato tutti gli Eutelsat. E ci fornisce dei dati orbitali, quali longitudine, perigeo, apogeo, inclinazione e periodo. Verifichiamo la possibilità per un sistema di ricerca avanzato. Quindi se noi, ad esempio, volessimo considerare i satelliti di tipo commerciale per comunicazione, non dovremmo fare altro che eseguire questa ricerca. Come vedete, sono ancora molti i satelliti in questa categoria. Possiamo restringere la ricerca. E quindi avremo tutti i satelliti che contengono la parola Bird, Eurobird, Atlantic Bird, e così via. Spero in questo modo di avervi dato un'idea, seppur approssimativa, delle potenzialità del database. Quello che avete visto, grafici, tabelle e mappe, sono semplicemente delle prime implementazioni. In futuro ci saranno altre implementazioni e verranno realizzati anche altri video di tipo didattico e illustrativo sulle singole potenzialità. Grazie per l'attenzione e a presto.